È in arrivo un'app di editing video creata e sviluppata proprio da YouTube, con cui potrai montare direttamente da cellulare i tuoi shorts e i tuoi video lunghi. Si chiamerà YouTube Create, vediamo in anteprima qualche caratteristica e le funzionalità principali. Effettivamente era un po' incredibile che YouTube, che da anni è il top nel settore video, non avesse ancora un app o un editor di montaggio video. Esisteva ed esiste ancora un editor all'interno dello YouTube Studio con cui puoi modificare i tuoi video già caricati su YouTube, ma è molto semplice e minimale. Puoi fare pochissime cose, tra cui fare dei tagli, sfocare delle parti di video o aggiungere una colonna sonora. Praticamente era pensato solo per correggere degli errori dopo aver caricato un video, cosa che è sicuramente molto utile, ma non era pensato per fare un montaggio intero del tuo video. Qualcosa in più si può fare con l'editor degli shorts, con cui puoi creare shorts direttamente dal tuo cellulare e puoi abbozzare un montaggio, con tagli, scritte, effetti e poco altro. Per questo YouTube ha pensato che fosse ora di creare il proprio programma di montaggio, per video orizzontali e verticali, e lo ha fatto dedicandolo ai creator da mobile. Non è infatti prevista la versione per PC di YouTube Create, ma si potrà usare solo come app da cellulare. Tutte le funzioni base di montaggio saranno ovviamente disponibili in YouTube Create. Quando darai in pasto la tua registrazione a YouTube Create, potrai ad esempio fare dei tagli, togliere dei pezzi, aggiungere della musica, sovrapporre delle clip o delle immagini una sopra l'altra utilizzando i livelli. Ci saranno dei template per affiancare tra loro 2, 3, 4 immagini e dividere lo schermo in quante parti desideri. Altra funzione molto comoda sarà l'inserimento di transizioni creative e artistiche, che non dovrai quindi stare a cercare online, creare o acquistare, ma si troveranno già dentro l'app YouTube Create. Sarà possibile aggiungere testi animati personalizzabili sui tuoi video e l'app YouTube Create creerà automaticamente per te i sottotitoli del tuo video. Capirà automaticamente quello che dici e creerà i sottotitoli sincronizzati con il tuo parlato. Quello che fai ad esempio con CapCut o con altri programmi o app dopo aver finito di montare il video, lo potrai fare direttamente montando il video. La musica e il copyright sono sempre tematiche problematiche e scottanti. YouTube Create sarà collegata al Creator Music, che è la raccolta audio di YouTube che presto arriverà per tutti noi e tramite cui si possono scegliere delle canzoni libere da copyright oppure di cui potrai direttamente acquistare la licenza nel momento in cui la scegli da inserire nel tuo video. In questo modo sarai sempre sicuro di evitare contestazioni per copyright. Puoi ovviamente inserire anche una tua colonna sonora salvata sul tuo cellulare oppure un tuo voiceover da registrare direttamente mentre monti il video. E se il tuo audio è disturbato o di bassa qualità, c'è anche una funzione per pulire la traccia audio da rumori di fondo. Ma non finisce qui perché per molti creator è fondamentale montare a tempo di musica, ovvero far combaciare i tagli delle clip con i beat della colonna sonora. Non è sempre facile farlo in modo preciso soprattutto su uno schermo piccolo come quello del cellulare. Per questo YouTube Create avrà una comoda funzionalità che evidenzia i beat della colonna sonora che hai scelto e con un comodo effetto a calamita potrai trascinare le tue clip esattamente fino a quel beat. Un aspetto molto comodo di questa app è che essendo un'app di YouTube si può direttamente collegare al tuo canale YouTube. Quindi quando hai finito di montare il video con un click puoi direttamente caricarlo sul tuo canale. È molto più comodo rispetto a salvare il file sul pc, sul cellulare, puoi passarlo magari su un altro dispositivo e caricarlo sul tuo canale YouTube. Ovviamente in caso di caricamento diretto dall'app YouTube Create al tuo canale, se hai creato e montato un video verticale di meno di 60 secondi, sarà automaticamente riconosciuto come uno shorts. Una versione beta sarà disponibile solo su Android entro la fine del 2023. Poi la versione definitiva e l'ampliamento a iOS è previsto per il 2024. Al momento l'app è gratuita e spero che rimarrà così per tutti i creator. Molti creator mi chiedono consigli su app per montare video da cellulare. Personalmente ho sempre montato da PC, ma credo che proverò quest'app YouTube Create perché mi sembra abbastanza semplice, intuitiva e completa. Se conosci altre app per montare video da cellulare, scrivimele nei commenti, potranno essere utili per tanti altri creator. Alla prossima!